Perché è importante fare acquisti nei negozi della città in occasione del prossimo Natale? È importante perché sostenere il nostro commercio significa sostenere in buona parte la vita stessa della nostra comunità e della nostra città. La salute delle nostre attività economiche e di quelle commerciali in questo caso decreta in buona parte la salute della città stessa e del suo sistema nel complesso, senza pensare anche ai posti di lavoro che grazie al commercio si riescono a supportare. Fare esperienza di acquisto nei nostri negozi quindi significa concorrere a fare la differenza tra una città in cui abitare e una città in cui vivere. A Bustarsinze ci sono oltre 1600 attività commerciali tra centro e periferie e copriamo tutti i settori merceologici con offerte di qualità esclusive e sicuramente che possono soddisfare le vostre esigenze. Abbiamo anche la caratteristica di avere oltre 50 negozi storici che sono la tradizione, l'esperienza di acquisto, sono i valori della famiglia e del lavoro delle persone. Abbiamo anche una bellissima relazione tra pubblico e privato con il quale il commercio e l'amministrazione hanno costruito un Natale all'insegna dei più piccoli e dei più grandi, sia nel centro che nelle periferie. Ci saranno addobbi e iniziative per tutti, per fare in modo che si possano festeggiare il periodo natalizio in modo sereno e amichevole in modo possibile. Vi aspettiamo nei negozi di Bustarsinze per festeggiare il Natale tutti insieme e con l'occasione vi auguriamo belle e serene festività natalizie. Buone feste a tutti voi e ricordiamoci, compriamo Bustocco, consumiamo Bustocco!